Mare sicuro e ferragosto tranquillo. Nonostante una forte presenza di bagnanti e di portisti in tutte le spiagge e le zone di mare, il weekend appena trascorso fa tracciare un bilancio positivo al comando della Capitaneria di Porto di Salerno. Non si sono registrati eventi di rilievo ed incidenti, ad eccezione del ferimento di un turista rimasto leso dall'elica del motore mentre faceva il bagno nelle acque a largo di Amalfi, tuttora ricoverato all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Il lungo fine settimana di agosto ha visto i militari della Guardia Costiera pattugliare l'intero tratto di costa salernitano che oltre alla vigilanza e ai controlli effettuati in mare ha permesso di accertare ed elevare 30 sanzioni amministrative per mancato rispetto dei limiti dalla costa. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno diretti dal comandante Daniele Di Guardo hanno effettuato anche una mirata operazione di monitoraggio dell'occupazione delle spiagge libere ed in modo particolare nel Cilento dove sono state riscontrate irregolarità. A tracciare un bilancio questa mattina ai nostri microfoni sulle attività del Ferragosto, momento focale della stagione estiva che vede la Guardia Costiera scendere in campo con tanti uomini e donne e con unità navali è stato proprio il comandante di guardo. Devo dire che il bilancio è estremamente positivo, abbiamo impiegato tutte le nostre risorse possibili nel compartimento marittimo quindi nei 250 chilometri di costa sono state impiegate 15 mezzi navali quindi tra motovedette e gommone in modo da pattugliare costantemente diciamo quasi costantemente tutta l'area di giurisdizione quindi 135 ore di moto. In aggiunta ai normali controlli nel weekend quindi venerdì, sabato e domenica sono state impiegate anche 12 pattuglie terrestri anche per i controlli voluti dal questore sul rispetto delle norme anticovid negli stabilimenti balneari. Non si sono registrati eventi di rilievo e incidenti ad eccezione di un turista che ha riportato danni da contatto con un'elica. Sono state elevate 30 sanzioni amministrative per la tipologia appunto della violazione e quella purtroppo che più di frequentemente riscontriamo che è il mancato rispetto dei limiti dalla costa. Ricordiamo appunto che il limite previsto quindi la fascia riservata alla balneazione di 200 metri nelle spiagge 100 metri nelle coste a picco. Non sono mancati controlli anche a terra per quel che riguarda il rispetto delle distanze e l'occupazione proprio degli arenili? Sì, nei giorni esattamente poco prima appunto del weekend di Ferragosto sono stati fatti importanti interventi soprattutto nel Cilento per l'abusiva occupazione appunto delle spiagge libere. Siamo intervenuti appunto per evitare che il Ferragosto diciamo fosse, iniziasse diciamo ecco il weekend di Ferragosto con queste problematiche che conosciamo tutti. I controlli continueranno ovviamente anche nei prossimi giorni anche nella città di Salerno. Arrivano alcune segnalazioni inviate proprio all'indirizzo della Capitaneria di controllare alcuni tratti di spiaggia soprattutto nella zona sud di Salerno? Sì, certamente. Ci sono delle zone che sono particolarmente attenzionate sia per quanto riguarda appunto le spiagge per evitare assembramenti o il mancato rispetto delle distanze diciamo minime e il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, quelle nostre quindi e delle ordinanze balneari dei comuni. Anche quindi oltre al litorale, agli stabilimenti diciamo e alla fascia destinata alla balneazione ci sono continui controlli anche per verificare possibili fenomeni di inquinamento.